Cosa ci attende nella vita beata? E' un ciclo di catechesi evidentemente pensato, che vorrebbe, diciamo così, dare fondamento dottrinale, evidentemente dogmatico, a quelli che si chiamano appunto i Novissimi, Novissimi letteralmente è la parola latina che significa le cose ultime, cioè le realtà ultime e definitive che attendono l'uomo, cioè quelle che lo portano oltre la vita terrena e a contatto con ciò che è il termine della vita terrena, cioè la morte, e è quello che viene dopo la vita terrena, perché la vita terrena non è la dimensione esclusiva della vita dell'essere umano, ma è solo la prima e tra l'altro la più breve fase di essa, però pur essendo la prima la più breve fase di essa, come si insegna la Santa Fede Cattolica e Divina, è la più importante, perché in questi anni che noi abbiamo da trascorrere qui, sul pianeta Terra, legati a catena all'istante presente, che è esattamente quello che appunto istante dopo istante segna tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, lasciando istante dopo istante un inchiostro indelebile sulle pagine della nostra esistenza, la nostra esistenza è da concepire, con un'immagine peraltro tolta dalla saga scrittura, come un libro, un libro che può essere più o meno voluminoso, possono anche essere diversi volumi, composto da pagine bianche e che noi ogni giorno, volenti o nolenti, scriviamo, perché tutto quello che noi siamo e facciamo ogni istante del nostro tempo, che è appunto abitato dalla nostra presenza, è un istante pieno di qualcosa, di un atto indifferente, di un atto buono, di un atto cattivo, di un atto virtuoso, di un atto vizioso, di un atto di perfezione, di un atto imperfetto, tutto quello che volete, ma istante dopo istante, momento dopo momento, la nostra vita si staglia in questo modo. modo. Ecco, quindi è oltremodo importante confrontarci con quelle che sono le realtà ultime. Guardate che a titolo di introduzione, questo è uno dei problemi grossi, attuali e che purtroppo, disgraziatissimamente, coinvolge anche la vita stessa della Chiesa, perché, come lamentano non pochi fedeli, ma che purtroppo, a quanto pare, non senza ragione, di questi argomenti, oggi non si parla quasi più, o meglio, se se ne parla, si parla solo di un argomento, sapete che nuovissimi si dovrebbe imparare a catechismo che sono quattro, la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso, anche se poi, come vedremo, dentro questo ambito, per attrazione, si tratta anche di altre due realtà. Una è un altro dogma di fede, e un altro non è un dogma di fede, ed è uno degli argomenti controversi in questi nostri tempi. Il dogma di fede è il purgatorio, il non dogma di fede, da molti ormai già, a mio avviso, assai frettolosamente accantonato nella soffitta, nel dimenticatoio, è il limbo. Allora, quando si parla di queste cose, se se ne parla, si parla solo del paradiso. Paradiso in cui vanno tutti, indistintamente, perché Dio è buono, è misericordioso, non può certamente volere la dannazione di nessuno, e conseguentemente una persona, qualunque cosa abbia fatto nella sua vita, va in paradiso. La spia di questo, purtroppo, purtroppo, sono certi climi, o certe cose che si sentono dire, io questo lo so per esperienza, perché io prima di essere stato sacerdote, sono stato un laico, non è che sono nato sacerdote, sono diventato sacerdote a 33 anni, e quindi per 33 anni ho vissuto la vita cristiana dall'altra parte, diciamo così, quindi ho partecipato a funerari, ho sentito omelie, tante, e le ho sentite anche con le mie orecchie, certe cose, non vi nascondo, ho assistito, cerco di non circostanziare per niente, perché magari Dio non voglia, dovesse sentire qualcuno che capisce qualcosa, ma io ho assistito per esempio ad esequie di persone che oggettivamente, pubblicamente, avevano avuto una vita veramente disastrata, per usare un eufemismo, io ho sentito dire durante quelle esequie, oi, mi raccomando, non facciamo mortori, questa celebrazione è una festa, noi da oggi abbiamo un angelo in cielo che prega per noi, o cose di questo genere, io sinceramente, amici miei, rimasi senza parole, nel senso che dico, sicuramente sto sacerdote non conosce la persona, però, cioè questo, diciamo così, magari lo scusa dal dire delle corbellerie grosse quanto una casa, però appunto, se non conosci la persona, io adesso ci sto da quest'altra parte, non dire queste cose, perché se la persona è quello che è, chi la conosce, e magari non sa che tu la conosci, ma come esce da questa celebrazione? Magari non gli fanno manco una messa, perché, scusa, se sta in paradiso, che gli facciamo dire a fare le messe di suffragio? Quindi tratteremo evidentemente, perché è connesso con questo argomento, per esempio, quando parleremo del purgatorio, soprattutto, dei suffragi, suffragi che sono importantissimi, ma è chiaro che se tutti vanno in paradiso, a che servono i suffragi? A niente, perché i suffragi servono, vedremo, vedremo a suo tempo, a abbreviare o rendere meno dolorosa la sosta di purificazione. Ma capite che dietro questo discorso c'è una certa idea di Dio e c'è, come sempre, oggi, mai, io ricordo le prime omelie che facevo da giovane prete tutto contento di, che pensava di cambiare il mondo, però alcune cose che dicevo allora, oggi le dovrei ridire ancora di più. Cioè, che viviamo in un contesto dove o la fede non c'è o in quelli in cui è rimasta non è più la fede divina e cattolica. È diventata un'altra cosa. E, ripeto, purtroppo, a quanto pare, non sembrano esenti da questa grave malattia, perché qui poi ci vanno di mezzo, qui ci va di mezzo alla salvezza delle animi, amici miei, anche coloro che dovrebbero insegnarle, alcuni evidentemente, non tutti, ma di coloro che dovrebbero insegnarle queste cose. Ho letto oggi un tweet, questo è proprio di oggi, ma guarda un po' che, lo leggo, lo leggo casualmente stamattina, quando sono andato un attimo, non mi ricordo perché a vedere il profilo di un amico, non italiano, di Twitter, che twitta evidentemente in inglese, praticamente questo qui aveva messo nel tweet, non mi ricordo neanche il nome, meglio così lo facciamo, però chiedo fiducia insomma su queste cose qui, tra l'altro poi se uno già in base a quello che dico va a fare una piccola ricerca lo trova, C'era un prete, presumibilmente anglofono, mi pare di aver capito che fosse irlandese, è un pezzo grosso, quindi un personaggio molto molto influente nella, come dire, nella nomenclatura, diciamo così, della gerarchia presumibilmente irlandese, comunque, di quel gruppo anglofono a cui apparteneva, che cosa diceva questo qui? Diceva che le vocazioni sono pochissime adesso, ma quelle pochissime che ci stanno sono vocazioni che fanno preoccupare, che quasi quasi se queste vocazioni, se dobbiamo sfornare preti di questo genere, è meglio non averli. Sapete quali sono i grandi pericoli di queste vocazioni? Scritto nel tweet, questi giovani preti vestono la talare, vestono la talare, amano la liturgia antica, amano la liturgia antica, questo, orrore, parlano dei novissimi, testuale, e nelle prediche parlano del peccato, tutte quante cose di 40, 50, 60 anni fa, che cos'è questo vecchiume? Che ci fai con dei preti così? guardate, l'ho letto con gli occhi miei, e se uno si fa un giro lo andrà a ritrovare, proprio oggi. Io dico, attenzione, se un prete, chiaramente vestito come i preti vanno vestiti adesso in giro, la maggioranza, da idraulico, io lo chiamo un po' ironicamente, quindi il signore mi perdonerà, che si scandalizza di queste cose, scandalizza con un prete, parla dei novissimi, porta la talare, e parla del peccato, oh mamma mia, e di che cosa dovrebbe parlare un prete? o dovrebbe andare in giro vestito come un idraulico quando ancora ha il diritto canonico, perché questi il diritto canonico, almeno, forse il diritto canonico, cioè, il diritto canonico è uno per tutta quanta la chiesa, ah certamente in Italia la conferenza episcopale ha autorizzato l'uso del clergyman, per carità, attenzione però, ha autorizzato l'uso del clergyman, io dico sempre che queste autorizzazioni, sapete, attraverso le autorizzazioni, e qui mi si deve perdonare, perché però, cioè, questi sono dati di fa, attraverso le autorizzazioni, faccio tre, quattro esempi, l'autorizzazione serve semplicemente, l'autorizzazione in deroga serve semplicemente a distruggere una norma, vogliamo un pochino di esempi? La veste talare, no? Un prete oggi va vestito con un idraulico, semplicemente perché negli anni 60, quando uscirono fuori, io ho, io c'avevo il Vespino quando ero piccolino, la lambretta era una generazione precedente rispetto alla mia, no? Ma uscivano le lambrette e c'erano questi predi che avevano questa lambretta e la veste talare insomma gli aveva fastidio sulla lambretta perché svolazzava, poi si infilava nei raggi, o cominciavano a fare, a piantare grane, dice, ma no, ma almeno per andare sulla lambretta e fateci metterci i pantaloni, fateci togliere sta cosa. Ecco, poi, che cosa succede? Concesso! Quindi, prima per andare sulla lambretta, poi per fare i viaggi fuori parrocchia, dice però, attenzione, in parrocchia e durante la liturgia sempre alla veste talare. È iniziato il movimento, dopodiché, non soltanto per la liturgia e parrocchia, ma solo per i sacramenti, e dopodiché consentito il clergyman. Ma consentito il clergyman, il passaggio poi ulteriore, perché il clergyman è vestirti da laico con un segno clericale, d'accordo? Io quando facevo l'avvocato, mi si perdone, andavo in giro vestiti pantaloni in giacca e cravatta. I primi anni che vestivo da prete, io spesso portavo la giacca, avevo i pantaloni, la camicia, anziché la cravatta con il letto, ma ero vestito uguale. Ok? Quindi, questo sarebbe autorizzato, il non autorizzato è andare oltre, quindi proprio vestirti come un laico. Ma, ormai, ma non è successo la stessa cosa con la comunione in mano, la famosa comunione in mano? Il mio amico Don Federico Bortoli, raccomando sempre alla lettura della sua tesi dottorale in diritto canonico, la distribuzione della santa comunione in mano, lo ha proprio mostrato passo per passo. La comunione in mano nasce da abusi della fine degli anni sessanta, metà degli anni sessanta, fine degli anni sessanta, di alcuni gruppi del nord Europa che si erano messi in testa di voler fare gli apostoli, i novelli apostoli, dicevano ma Gesù nell'ultima cena ha celebrato col pane azimo e poi la comunione ha detto prendete e mangiate, quindi dobbiamo prenderla in mano pure noi. Paolo VI all'inizio fu rigido, non se ne parla nemmeno, dopodiché, siccome questi andavano avanti lo stesso, ecco la solita cosa, perché c'è l'abuso, cosa facciamo, una stretta di vita oppure cediamo ha ceduto, però la norma era circoscritta, c'è l'attenzione, si può fare solo in piccoli gruppi, previa catechesi, consapevolezza dei frammenti che non devono essere dispersi, persone preparate, eccetera, eccetera, cosa è successo? Cosa è successo adesso? Cioè, c'è una lamentella diffusa e continua che specialmente post pandemia un sacco di gente che ha difficoltà a prendere la comunione in mano per ragioni sacrosante di coscienza non c'è più posto dove la trova, cioè da un'eccezione circoscritta deve essere diventata la regola, addirittura non solo la regola, la regola che non prevede eccezioni quando al momento, all'attuale momento, la comunione in mano è tuttora un indulto revocabile in qualunque momento, non c'è nessun diritto di prendere la comunione in mano, c'è un diritto a prenderla in bocca non a prenderla in mano almeno come è attualmente la legge della Chiesa, poi se la Santa Sede domani cambia il diritto canonico e cambia questa cosa, secondo esempio, vogliamo farne un altro? Terzo esempio, il bruciare i morti, il bruciare i morti, sappiamo benissimo, lo sanno tutti che un tempo chi sceglieva la cremazione, tu scegli la cremazione e con questo ti privi delle sequie ecclesiastiche, perché la cremazione di per sé è un atto pagano, di origine pagana, perché erano i pagani che bruciavano i morti, basta andare a Pompei o ai cimiteri romani e vedere le urne funerarie, i pagani bruciavano i morti, i cimiteri se li sono inventati i cristiani, perché le catacombe tuttora visitabili non sono altro che i cimiteri clandestini che facevano i cristiani in cui poi si riunivano per celebrare in segreto e per sfuggire alle persecuzioni, e perché i cristiani seppellivano i morti? Perché la morte è l'ultimo sonno, perché il corpo è sacro, è il corpo di un figlio di Dio, è stata abitazione dell'anima e sta semplicemente dormendosi il sonno più lungo in attesa della risurrezione. Allora che succede? Eccezione, ah però, facciamo così, se uno si fa cremare non per sfregio del dogma della risurrezione, allora le esegue sono consentite, poi però nel 2014 l'allora prefetto della congregazione della fede quando ha cominciato a vedere che succedeva di tutto e di più, ha scritto un documento controfirmato dal Papa, però questa non è, cioè nessuno pensi che questa è una cosa che la Chiesa raccomanda, cioè questa è un'eccezione e poi le ceneri non si possono portare a casa, non si possono fare le medagliette con la cenere del morto, ma ormai io sono parroco, chiedete in giro ai vostri parroci, siamo almeno al 50%, almeno, dei morti che si fanno bruciare, perdendo tutta quanto una serie di suffragi, tra l'altro, legati alla sepoltura, di cui parleremo a suo tempo. Ho fatto soltanto questi tre esempi, ma potremmo continuare, ce ne sono tanti altri, d'accordo? Vogliamo parlare dei ministri straordinari della Santa Comunione è la stessa cosa, cioè che tu mi dici che in circostanze del tutto straordinarie straordinarie. Può un laico di per sé distribuire la comunione o devi essere rigorissimamente, San Francesco stesso diceva, la necessità non ha legge, ma deve essere una circostanza del tutto straordinaria. Tutti quanti sappiamo che cosa è successo, no? Tutti. Cioè, ma tutto è così, ma anche a livello civile. Come sono entrati le peggiori leggi? Col caso limite, no? Tu presenti il caso limite, dici, eh, ma che in questo caso non concedi un'eccezione? Concessa l'eccezione al caso limite, l'eccezione diventa la regola. Quindi, purtroppo, sta cosa procede, prosegue, e quindi stiamo veramente in un in un in un caos. dietro questo discorso che faremo, ripeto, c'è una certa idea di Dio e c'è il termometro, lo stato della fede. Non è assolutamente morta quella mentalità che piaccia o non piaccia è la quintessenza del modernismo e bisogna dirlo, in base alla quale cioè si pensa che anche le verità di fede non è che tu devi semplicemente per questo si può e si deve fare trovare forme e modi sempre nuovi e comprensibili alle generazioni attuali per riferirle. Questo si può, non solo si può, questo si deve fare. D'accordo? Ma attenzione, tu devi riferire la stessa cosa. Non puoi pensare che un qualche cosa possa cambiare in base al cambiamento dei tempi e quindi poi cambia anche la dottrina. Vi dico, cioè c'è scritto nelle norme liturgiche della Chiesa in quelle che riguardano le esegue, tanto per parlare di un argomento che non si devono mai per nessun motivo fare pane igidici del defunto. Ma manco se questo fosse conosciuto come un bravo cristiano o forse anche un po' più che un bravo cristiano perché le canonizzazioni fino a prova contraria si fanno presso la Santa Sede con una procedura ben precisa che parte dalla diocesi sulla base di documentazioni raccolte quindi non è che tu al funerale questo è andato in paradiso tu ti stai sostituendo al giudizio di Dio uno e al giudizio della Chiesa due al senso delle esegue è che un parroco con la comunità offre il primo sacrificio caristico nell'occasione della morte in suffragio del defunto prega per lui sperando che abbia raggiunto la salvezza punto ma insomma mica tanto sicuro io ne so se quello di cui sto celebrando il funerale è salvo che ne so io e mica posso esserne sicuro che lo sia cioè tutte queste cose io penso che bisogna un attimo stare stare attenti quindi qui ci va di mezzo amici cari attenzione però la salvezza delle anime perché se non è vero che vanno tutti in paradiso e non è vero che vanno tutti in paradiso purtroppo non è che io so dicevo ah che bello non vanno tutti in paradiso ma a me dispiace così come detto fra me e voi dispiace certamente dobbiamo usare le virgolette quando attribuiamo questi termini all'altissimo dispiace pure all'altissimo che non vadano tutti in paradiso perché per quanto sta in lui lui vorrebbe che ci andassero tutti questo deve essere chiaro San Paolo scrive chiaramente nella lettera a Timotio Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità ma quello che Dio vuole non è detto che si compia ah ma allora Dio non è onnipotente ma che discorsi fai questa volontà divina è come dire subordinata perché così deve essere alla volontà dell'uomo la formula latina della consagrazione durante la santa messa dice che il sangue di Gesù è stato versato per molti non per tutti quasi tutte le conferenze episcopali molte conferenze episcopali nella traduzione hanno cambiato i termini in Italia si sa perché ancora continuiamo con la terminologia antica che è una terminologia adesso non è detto che uno la interprete in questo modo no perché cioè nelle intenzioni certamente Gesù ha versato il sangue cioè nelle intenzioni divine non c'è nessuna preclusione a priori per nessuno alla salvezza non è che questo sia e questo no però che questa sia l'intenzione divina non significa che questo accadrà e tu puoi grogiolarti diciamo ha versato il sangue per tutti quindi siamo tutti quanti coperti dal sangue di Cristo quindi fa quello che te pare è tanto buono versato per tutti in remissione dei peccati quindi se l'ha versato per rimettere i peccati qualunque peccato hai fatto devi essere rimesso e fanno tutti in paradiso guardate che è facilissimo passare a queste a questi ragionamenti completamente astrusi perché il diavolo è terribile poi cioè quindi ma attenzione siccome così non è una persona che entrasse in quest'ottica ma pone a serio repentagno la possibilità di salvezza dell'anima guardate questi non sono giochi qui non stiamo giochicchiando io non ho scelto di fare il sacerdote perché non c'avevo nient'altro da fare detto proprio in termini così come presumo nessuno di quelli che fanno questa cosa ma per la gloria di Dio è la salvezza delle anime la salvezza delle anime non è una cosa scontata è un traguardo da raggiungere ed è un traguardo che per raggiungere che per raggiungere ci vogliono una serie di condizioni che ci devono stare tutte quante cioè la dannazione è una cosa grave è una cosa brutta quando parleremo dell'inferno già mi immagino i commenti su su youtube c'è stato qualche catechesi in passato da parte degli stolti l'inferno bisogna avere il coraggio di guardarlo in faccia per quanto ne possiamo conoscere dalla sacra scrittura anzitutto come vedremo oltre che dal magistero della chiesa ed è meglio pensarci e bene a quello che rischiamo per evitare di andarci a finire e nessuno di noi io non sono affatto sicuro di non andare all'inferno ahimè Dio me ne scampi e liberi ma io quando prego il rosario scusate ma una madonna che fa fare delle preghiere inutili ha chiesto la madonna a Fatima di aggiungere dietro ogni decina o Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno e se gli chiediamo di preservarci dal fuoco dell'inferno vuol dire che purtroppo questo pericolo è un pericolo reale non è un pericolo ipotetico e nessuno sta al sicuro io non sto al sicuro perché non è che il diavolo dorme il diavolo viene a rompere scatole anche a me io sono tentabile anzi è di fede che fino all'ultimo istante noi siamo tentati possiamo cadere per questo che la Maria prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte è il momento del passaggio è un momento critico quindi queste cose non devono far venire l'angoscia perché non fanno venire l'angoscia perché dall'altra parte c'è anche il fatto che se una persona ama il Signore vive nella fede usa i sacramenti prega e cerca di di tendere verso la santità così come può pur con tutto il bagaglio infinito di miserie che ci portiamo dietro beh insomma a queste condizioni sapendo che il Signore ci vuole salvi senza diventare presuntuosi o superbi arroganti o collocarci in paradiso a priori prima di andarci beh insomma possiamo sperare di farcela d'accordo ma sempre procedendo con estrema umiltà e con estrema cautela e circospezione ecco allora questi temi sono importanti e io ritengo insomma con prete che ne dica quel confratello insomma che non so che cosa ti passa per la testa facendo questo non solo che fa il prete ma fa quello che deve fare attenzione questa è semplicemente una parte vincolante del nostro patrimonio di fede vincolante ed importante bene detto questo il discorso che noi faremo è un discorso che si chiama tecnicamente con una parola teologica un pochino tecnica escatologico ora io vorrei risparmiare alcune cose ma nel secolo scorso questa branca della teologia branca importantissima appunto l'escatologia cioè la dottrina delle cose ultime escaton in greco è l'equivalente di nuovissimo in latino escaton significa cosa ultima cosa della fine è stato definito il focolaio dei disordini perché le stupidaggini stupidaggini che sono state dette a riguardo fanno proprio il fumo ci sono stati fior di teologi considerati tali io tali mi dispiace tanto ma non li considero che hanno negato l'esistenza dell'inferno hanno negato l'esistenza del diavolo come essere personale hanno ingenerato illusioni nei fedeli quindi chi non ha negato l'inferno qualcuno ha detto che era vuoto c'è ma è vuoto cioè qualcuno ha detto no non è vuoto ma è lecito sperare che sia vuoto se uno studia e soprattutto legge io ci ho avuto questa grazia da parte dell'altissimo non è un mio merito perché mi ci sono trovato insomma un po' dipendeva anche dal fatto che io ho sempre avuto questo criterio e lo conservo tuttora chi è stata ammessa ieri avrà sentito quel passo meraviglioso del libro della Sapienza cercherò di farci un paio di omerie perché se ne merita dice quale uomo può conoscere i voleri di Dio chi può immaginare cosa vuole il Signore cioè queste parole devono devono riempirci di un pochino di doverosa umiltà l'umiltà è una bellissima virtù io vi chiedo di pregare perché ne posso arrivare un pochino ma c'è un'umiltà come dire strutturale doverosa che noi dobbiamo avere anzitutto davanti a Dio io ricordo perché ho letto tanto ho letto tante vite dei Santi non perché sono chissà che cosa ma perché quando mi accostai un pochino di più al Signore poi intervenne la vocazione quindi il tempo del seminario allora un po' c'era il senso della responsabilità dico non domani che divento prete cioè è chiaro un prete è l'ultima ruota del carro poi io adesso sono abbastanza ultima ruota del carro insomma per la mia posizione ecclesiale e sono felicissimo che sia così per quanto tu possa essere l'ultima ruota del carro però sei sempre un prete quindi chi ti ascolta è insomma tu c'è l'autorevolezza di un prete e tu quando apri bocca devi sapere quello che dici perché tu non puoi andare a dire una cosa che fa del male alle anime questa era un pochino la motivazione professionale mi si passi questo termine che è proprio insomma non proprio consono perché essere sacerdote non è una professione però come dire è analogamente è una missione ma è analogamente accostabile per un'analogia molto molto ampia no? ma c'era anche un problema che io io personalmente cioè io personalmente chi sei signore mio? cosa si può pensare di te? e chi ce lo insegna? io ho sempre pensato che chi me lo insegna? i santi me lo insegnano i santi padri i santi dottori e i santi santi il santo è l'amico di Dio siccome io santo non ci sono vado a interpellare gli amici di Dio scusate a me questa cosa sembra talmente ovvia talmente scontata che dice uh che bravo ma che bravo questo è l'ovvio no? ma io non mi sognerei mai di andare contro l'autorità di una schiera di santi è chiaro che anche il singolo santo o il singolo dottore questo il signore lo permette perché perché ci ricordiamo che Dio è sempre uno solo l'infallibile e l'impeccabile è solo l'altissimo questo non dimentichiamolo mai tra gli esseri umani tra i membri della chiesa di infallibili e impeccabili non ci sono ok? non ci sono perché uno diventa impeccabile è una cosa molto rara solo se il signore concede un dono straordinario che si chiama tecnicamente la confermazione in grazia alcuni santi l'hanno ottenuto ce l'aveva senza dubbio ce l'avevano Gesù Cristo e la Madonna su questo non c'è nessunissimo dubbio ma il resto è rarissimo quindi infallibili nessuno è anche come ciò a dire che il Papa è infallibile il Papa è infallibile quando parla ex cathedra e anche il Magistero della Chiesa è infallibile quando si tratta di Magistero solenne quindi che tende a definire un dogma o a proporre una verità di fede come definitiva altrimenti non è infallibile neanche il Magistero e lo dice insomma uno che da sempre è stato chiamato la Santa Inquisizione quello che in seminario non lo poteva vedere nessuno perché stava il Magistero e il Magistero e il Magistero e il Magistero quindi che il singolo possa prendere una cantonata e anche teologi eccellenti hanno preso qualche cantonata che poi bisogna comunque sempre circostanziarla il momento storico capire perché ha fatto quell'affermazione tante cose però quando una dottrina questo è è comune si chiama così nei Santi cioè quando la grande maggioranza dei Santi la pensano sempre dello stesso modo tu non puoi distaccarti da questo perché se lo fai si dice in teologia tu cadi in quella che si chiama la dottrina temeraria temeraria vuol dire giovanotto ma come ti permetti di metterti da solo tu da solo contro l'autorità di una schiera di Santi e di dottori ma chi ti pensi di essere è vero che anche quello non concorre ad essere magistere infallibile ma c'ha un peso ora la stragrande maggioranza dei Santi non pensavo affatto che la stragrande maggioranza del genere umano andasse in paradiso ve lo dico io per quello che mi risulta poi se qualcuno mi vuole smentire o mi sa smentire o ha letto qualche cosa di differente se una cosa una rondina non fa mai primavera me lo dica i Santi hanno sempre proposto un cammino austero severo sulla scia di quello che dice il nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo per raggiungere la salvezza e ancora di più per raggiungere la perfezione le discese la mangiatoia bassa le strade larghe già nel Vangelo sono definite come dire vie maestre che portano alla perdizione uniformati tutti quanti i Santi quindi l'arroganza perché di questo si tratta di alcuni personaggi vissuti nel secolo scorso io li chiamo così è giunta non solo a mettersi sotto i piedi che è proprio un atteggiamento questo qui che proprio lo considero assolutamente esecrabile perché ripeto io pregate per me perché i temperamenti collerici col vizio capitale della superbia ahimè e lo dico con tanto dolore ecco e con tanta vergogna ci hanno proprio è un incubo continuo quindi però dico cioè dinanzi a certe cose sarebbe un po' troppo no? ma come mi faccio andare a mettere da solo contro 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 una schiera cioè la tradizione con la T maiuscola è questa capito? noi non possiamo cioè noi non è che arrivo io e ha rivolto tutto e rifaccio le cose da gama ma che sei matto? ma che fai? cioè questa è una follia abbastanza diffusa che ha circolato e che continua a circolare purtroppo ecco quindi stiamo sempre per questo che formazione 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 letture 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 perché poi i fedeli che ascolteranno queste cose perché i fedeli grazie a Dio questi devono imparare assolutamente a farlo hanno una coscienza una coscienza che come diceva Cardinal Newman è animata se sono fedeli che ci provano a essere fedeli anche loro nel senso che pregano stanno vicini ai sacramenti si informano ascoltano si documentano per quanto possono dopo gli viene il senso sfidelio potremmo definirlo o come definisce il il naso nel senso che quando sentono qualcosa che non va sentono subito la puzza di bruciato e entrano subito in allarme quando si entra in quest'allarme attenzione questo è un allarme da da seguire dice ho sentito sta cosa sto ministro di Dio va dicendo questa cosa ma a me mi sembra questa è una stupidaggine mi sembra il contrario di quello che dovrebbe essere detto ah no però poi c'è qualche anima che non ha imparato come dire a discernere che quando succedono queste cose è la coscienza che ti sta ammonendo e nella coscienza parla la voce di Dio che dice ah no però l'ha detto quello è un prete quindi se lo dice lui sarà così o quello è un vescovo se lo dice lui sarà così se lo dice lui sarà così dipende dipende un vescovo questo cioè chiunque può andare a controllare un vescovo a differenza del sommo pontefice non ha da se stesso e nemmeno una conferenza episcopale ce l'ha il potere di produrre nuovo magistero non ce l'ha un vescovo non può in quanto vescovo proporre come dire o definire una dottrina distinta da quello che già fa parte del patrimonio dogmatico della chiesa non lo può fare non c'è il potere di farlo perché questo può farlo soltanto il sommo pontefice da solo sono lui e il vescovo lo può fare ma solo con tutti gli altri vescovi quindi riuniti nel collegio episcopale non nelle conferenze episcopali tutti i vescovi del mondo insieme e sempre in unione con il sommo pontefice e qui si distinguono adesso per un po' vuol dire che il dovere di un vescovo è di predicare la sana dottrina cattolica né più nemmeno che il dovere non è più nemmeno di più perché lui c'è la pienezza dell'ordine sacro e c'è anche una potestà canonica non indifferente ed è anche incorporato come corpo ma a successione apostolica ma non può inventarsi nulla deve proporre insegnare spiegare anche in termini comprensibili all'uomo contemporaneo il depositum fidei che non si tocca ora terminiamo questo discorso che è un pochino introduttore come sempre la prima dei nuovi cicli di catechesi no ora che cos'è la vita cristiana che cosa siamo stati battezzati a fare siamo stati battezzati per un motivo molto semplice perché tolto il peccato originale e infusa la grazia santificante con tutte quante le virtù teologali e cardinali chi vuole approfondire questo tema può tranquillamente dare un'occhiata al ciclo di catechesi dell'anno scorso vizi e virtù e a che cosa servono queste cose a diventare santi ad immagine del santo che vi ha chiamato diventate anche voi santi in tutta la vostra condotta perché sta scritto voi sarete santi perché io il signore sono santo e che cosa è essere santi santo in italiano e nel latino è santus le etimologie latine sono state proposte almeno due tre ma per cogliere la quintessenza della santità bisogna andare a vedere l'ebraico e il greco in ebraico santo si dice kadosh e kadosh in greco scusate in ebraico significa separato separato vuol dire vuol dire separato cioè c'è un insieme e a un certo punto un qualche cosa che stacca si distacca dall'insieme lo vogliamo esprimere in termini evangelici voi non siete del mondo ma io vi ho scelti dal mondo quindi un cristiano è altro rispetto al mondo in greco a questa diciamo così già importante puntualizzazione dell'etimo ebraico si aggiunge un'ulteriore sfumatura perché santo in greco è agios alfa privativa e geos che significa terra il geologo diciamo anche in italiano è quello che studia la terra la geografia è appunto la scrittura della terra geografos ok quindi ossia le piantine la conformazione dei territori eccetera no quindi agios quindi vuol dire alfa privativo lo diciamo anche noi no quando uno è afono vuol dire che non parla afone senza parola ok agios significa letteralmente senza terra se siete risorti con Cristo cercate le cose dell'assù pensate alle cose dell'assù non a quelle della terra la terra è ciò che appartiene a questa vita si chiama la vita terrena senza terra vuol dire che il santo il chiamato alla santità è un uomo celeste già da adesso una donna celeste è pura o puro quindi non non frammischiato a queste cose già comincio subito a sentire ah no qui facciamo la discriminazione no noi siamo come tutti gli altri che cosa tutti questi discorsi ah la chiesa dei puri ah questa la chiesa dei puri hanno cominciato ai tempi di Sant'Agostino i donatisti poi al Medievo c'erano i catari tutti quanti eretici gli albigesi a destra e a sinistra la chiesa sono una chiesa dei puri noi siamo tutti gli altri peccatori calma calma buoni tranquilli calma calma anche questa questa frase siamo tutti peccatori ci sono alcuni ambienti nella chiesa non voglio neanche qualificare il termine ambiente se no si capisce troppo bene quali sono ma come diceva Gesù chi vuole capire uh capisce alla grande siamo peccatori siamo tutti peccatori ma lo diciamo in continuazione la Santa Messa comincia con l'atto penitenziale prima di fare la comunione diciamo non sono dovuti partecipare alla tua mensa tutte le sere dovremmo dire spero che lo facciate tutti l'atto di dolore prima di andare a dormire perché cosciente o non cosciente prima di fare un sacco di guai ma c'è modo e modo di essere peccatori allora il santo quindi quello che vive la propria vocazione non è peccatore nel senso di avere in sé con sé la malizia del peccato cioè non è uno che pecca ad occhi aperti so che una cosa è peccato chi se ne importa la faccio lo stesso questo non è il santo chi fa questo sta tradendo la propria vocazione battesimale quindi che significa se non faccio questo qui quindi se una cosa so che è sbagliata non la faccio vuol dire che sono impeccabile non commetto peccati non li commetti perché per debolezza per ignoranza molte cose che il signore al signore non piacciono tu non ne sei consapevole o altre cose che al signore piacciono e tu non le fai non ne sei consapevole quindi c'è una condizione strutturale di miseria anche poi i peccati di difetto quelli che dipendono dai vizi che ci portiamo dietro no? appunto un atto di superbia un parlare gratuitamente di te un dire una parola inutile un fare uno scatto di impazienza un atto di rap ah queste cose qui dicono tutti i grandi santi noi dobbiamo combattere su tutti i fronti ma non 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 illudiamoci di riuscire a vincerle tutte le battaglie allora in questo senso è chiaro che tutti rimaniamo peccatori fino a quando siamo in questa valle di lacrime ma in questo senso però e questo senso non è incompatibile con la chiamata alla santità però se tu con peccatore intendi una persona che sta ancora volontariamente invischiata in cose che sa bene che offendono Dio e nonostante che lo sappia le fa lo stesso è questo è un altro discorso ora il discorso è che chi è il solo santo tu solo il santo tu solo il signore tu solo l'altissimo chi è il tre volte santo quindi il santo è Dio è Dio e quindi chi è che può stare dinanzi a Dio sono i santi i santi possono stare dinanzi a Dio ecco perché se tu a un funerale vai a dire ah questo è un angelo che prega per noi stai dicendo che quello è santo non solo santo è santo che si è anche purificato già tutte durante le sue colpe e con quale autorità tu dici una cosa di questo genere io ancora lo devo capire insomma almeno che non c'è la scienza infusa o se c'è i doni straordinari che il nostro signore ti ha rivelato con quello dell'anima beata alzo le mani ora tutti i beati in paradiso saranno tutti i santi perché la chiesa quando si dice che la chiesa è santa la chiesa è santa attenzione e la chiesa non gli uomini e i membri della chiesa la chiesa è santa e la chiesa non pecca la chiesa non pecca i singoli sì ma la chiesa no perché la chiesa è la sposa di Cristo il fatto che la chiesa peregrinante o militante come si chiamava un tempo meglio secondo me sia soggetta a miseria in continuazione però però come dice San Giovanni pur non essendo possibile essere santi come lo sono i beati ma San Giovanni dice chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non l'ha mai visto né conosciuto cosa sta dicendo ah quindi non è vero che siamo peccatori no non è vero che siamo peccatori nel senso che ho prima specificato perché fino a quando tu commetterai un peccato volontario e con piena avvertenza ci sono ancora dei problemi ora i membri della chiesa sono santi tutti quanti allora il battesimo ci ha dato in là il punto di partenza verso la santità ci ha messi in condizione e poi però ci sarà un cammino da percorrere la chiesa dicono i documenti della chiesa anche recenti anche la Lumen Gentium in questa terra rivestita già di santità vera anche se imperfetta l'imperfezione che per noi è strutturale fino a quando siamo qui non è affatto un ostacolo alla santità è la volontarietà del peccato che lo è spero di essere stato chiaro ora la morte segna il passaggio definitivo da questa condizione ad un'altra condizione noi qui siamo nella prova noi qui siamo come diceva San Tommaso via Tori siamo in via siamo in una condizione di interdizione perché subiamo le conseguenze del peccato originale e tutto ciò che questo comporta tutte le limitazioni che in parte sono intrinseche a questo stato è in parte nostro Signore con un atto positivo di volontà ha voluto inserire per il nostro bene allora al momento della morte si aprono tre strade il paradiso il paradiso in paradiso ci vanno i santi tanto per chiarire in paradiso per direttissima la Chiesa ha la coscienza che ci vanno due categorie di persone i martiri e i bambini battezzati prima dell'uso della ragione basta gli altri generalmente passano per una fase di purificazione il purgatorio attenzione il purgatorio si chiama l'anime sante avremmo modo di approfondirlo quindi se uno va in purgatorio il bersaglio l'ha centrato sostanzialmente certo non in maniera perfetta e quindi vedremo a suo tempo avrà un tempo di purgazione di purificazione di espiazione di riparazione prima di accedere alla pienezza della santità questo perché davanti a Dio ripeto ci vanno solo i santi e se tu santo ci sei diventato prima della morte ci diventi per forza dopo la morte col purgatorio l'inferno chiaramente è il fallimento totale dell'obiettivo come tante volte ci diceva il mio altro amico Don Fabio Rosini quando veniva a farci un po' di prediche in seminario quando era in seminario a Roma ci diceva che il peccato che in ebraico è attat tra le etimologie possibili c'è quello di fallire il bersaglio chi pecca ha fallito il bersaglio e l'inferno è il fallimento totale dell'obiettivo la nostra vita ha un obiettivo qui non voglio adesso 5 di catechesi dal non senso alla vita di cielo qual è il senso della tua vita il fine della tua vita noi siamo stati creati per conoscere amare servire Dio in questa vita e per goderlo nell'altro questo è quello che ci dice la fede l'inferno è il fallimento di questo di questo fine chi va all'inferno chi non ha conosciuto chi non ha amato e chi non ha servito Dio in questa vita e attenzione perché è fallito l'obiettivo noi abbiamo solo una vita per raggiungere l'obiettivo e non ci sono terminata questa chance possibilità di ricupero o il bersaglio l'hai colpito o il bersaglio lo hai fallito se la mira era stata un po' imprecisa pace ma se hai fallito il bersaglio addio ecco questo per dire che tutto quello che andremo a fare credo che sia molto importante e che un prete che fa queste cose non soltanto di questo povero Don Leonardo ma chiunque lo fa facciamo molto meglio di come lo faccio io non è che fa cose che si fanno 40-50 anni fa fa il suo dovere e certamente concorre a un grandissimo bene per tutte le anime detto questo appuntamento alla prossima settimana per la seconda puntata io vi benedica e la santa e viatissima vergine sempre vi protegga grazie a tutti